Sono tante le vertenze di Puglia, ne parliamo in studio con Pino Gesmundo, segretario generale della CGL di Bari. Buongiorno e ben arrivato. Buongiorno a voi, grazie. Prima di addentrarci nelle tematiche del lavoro, vediamo questa scheda curata da Rossella Matarrese. Operai e impiegati sotto braccio negli stabilimenti del gruppo Natuzzi. Per i sindacati fino al 95% di adessioni ha raccolto lo sciopero di 4 ore ad inizio turno nell'ambito dell'avvertenza sulla cassa integrazione per 1.550 lavoratori sul totale dei quasi 2.800. Uno sciopero che ha ottenuto il risultato di riaprire il tavolo della trattativa è sempre una cosa buona, dice il segretario pugliese della FENIA, la Salvatore Bevilacqua, se serve a risolvere i problemi, non a perdere tempo. L'incontro, convocato dall'assessore regionale al lavoro Leo Caroli, si terrà lunedì 27 ottobre. Un'avvertenza lunga e difficile, quella della Natuzzi, su cui proprio ieri da Castellaneta si è espresso Angeletti. Il leader della Will punta il dito sul gruppo di Santeramo che non ha investito in Italia, delocalizzando. Una dichiarazione strumentale priva di ogni fondamento, risponde l'azienda Natuzzi negli ultimi 12 anni e ha investito 550 milioni di euro in difesa del Made in Italy. Da distretto del salotto all'acciaio la crisi non fa sconti, ma vanno ben oltre i confini congiunturali, i problemi dell'ILVA. Il commissario straordinario Gnudi, parlando in commissione bicamerale sulle comafie, ha detto che per i futuri acquirenti in testa ai gruppi Arcelor, Mittal e Marcegaglia, condizioni rinunciabili saranno il rispetto dell'autorizzazione integrata ambientale e i livelli occupazionali. Una situazione per niente facile, ammette Corrado Carrubba, subcommissario da appena 20 giorni davanti alla commissione. I problemi dell'ILVA sono giganteschi sia per le dimensioni dell'attività produttiva che per la gestione dei rifiuti. Bene, Gesmundo, abbiamo visto le criticità maggiori in questo momento storico, Natuzzi e ILVA, ma quali sono le prospettive per i giovani sul territorio di Bari? Quali occasioni di lavoro ci sono e ci potrebbero essere? Noi abbiamo sicuramente delle vertenze rispetto alle quali bisogna trovare delle soluzioni veloci. Quelle vertenze che abbiamo visto durano da troppo tempo, bisogna che lo Stato intervenga. C'è un intervento importante della Regione rispetto alla vicenda Natuzzi. Noi su Bari stiamo ragionando, ma in tutta la Puglia in verità, rispetto alla possibilità di applicare un accordo che si è tenuto a livello regionale per l'attivazione, per esempio, dei cantieri di cittadinanza. Stiamo ragionando di cantieri che possono dare lavoro, anche una minima condizione di lavoro, ma provando a passare dalla condizione di assistenza alla necessità di mettere al centro invece il lavoro e dare lavoro vero alle persone, agli uomini e donne di questo territorio, ma della Puglia in generale. E poi ci sono 90 milioni di euro provenienti dai fondi PON da mettere a disposizione per il lavoro sul territorio di Bari. Questa è una straordinaria occasione per la prima volta, peraltro, che Bari ha in quanto area metropolitana, di poter utilizzare da subito circa 90 milioni di euro del cosiddetto PON area metropolitana, risorse destinate alle aree metropolitane, nella responsabilità della gestione direttamente del sindaco di Bari, sulle quali risorse possiamo non solo creare sviluppo, ma anche creare buone occupazioni. Si devono aprire i cantieri, si devono mettere in piedi progetti di immediata attuazione. Sabato intanto a Roma c'è una manifestazione nazionale contro le politiche del governo. Qual è il contributo che parte da Bari e dalla Puglia in termini di partecipazione partecipazione alla manifestazione anche in termini di idee? Intanto c'è una straordinaria partecipazione, c'è una grande richiesta di partecipazione alla manifestazione che terremo il 25 a Piazza San Giovanni. Noi abbiamo raddoppiato gli obiettivi, per esempio, rispetto a Bari che ci sono stati assegnati. Sappiamo che è l'inizio di una mobilitazione che terremo. Il contributo di B.E. è quello di mettere al centro della discussione del Paese, certo l'articolo 18, la tutela dei diritti che vanno salvaguardati, ma sicuramente una serie di riforme che creino il lavoro e costruiscono le condizioni per il lavoro. Grazie a Piero Gesmundo per essere stato con noi.